Ci sono donne che si arruolano per combattere guerre lontane. Mi ordinò di entrare, mi blocco le braccia. Ma spesso... Cercò di costringermi a toccarlo. Nell'esercito... Che devo aiuto. Scoprono di avere anche un altro nemico. E mi violentò. Molto più vicino. Non intervenne nessuno. Comandanti erano complici nell'insabbiare ciò che è avvenuto. In occasione della festa della donna, una coraggiosa testimonianza al femminile attraverso uno dei documentari più premiati degli ultimi anni. The Invisible War. In prima visione, domenica 8 marzo alle 23, su Cielo. Grazie a tutti.